Musica Eccoci qua dal main event, ho bustato in centunesima posizione, purtroppo sono delusissimo come chiunque esca non in prima posizione in questi tornei. E diciamo che ho giocato 4-5 giorni di gran poker e non sono assolutamente deluso di niente, rifarei penso tutte le scelte che penso di aver giocato il mio miglior poker, quindi purtroppo va così, ogni tanto si va avanti, ogni tanto si busta un po' troppo presto, però diciamo che è andata così dai, il poker è bello perché è così. Un ringraziamento a tutti quei ragazzi che mi hanno seguito su Facebook, mi ha scritto, a voi blogger, a tutti gli addetti ai lavori, a tutti, grazie del sostegno e ci rivedremo forse il prossimo anno. Musica 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 Musica